Ecco i titoli che anticipano il TG. Identificati i presunti responsabili dell'incendio appiccato ai locali della Scuola Media Quasimodo di Ragusa il 19 febbraio scorso. Franco Antoci è stato ricevuto da Giorgio Napolitano per sollecitare l'apertura dell'aeroporto di Comiso e il raddoppio della Ragusa a Catania. Illustrato stamattina il progetto della nuova pescheria che nascerà a Donna Lucata. Domenica Scicli torna Artin Piazza. Tra le novità di questa ottava edizione un evento moda e la presenza del cantautore Giancarlo Guerrieri.